In evidenza, la conferenza dei capigruppo ha definito il prossimo calendario dei lavori. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Abbiamo programmato i lavori dell'Aula e delle Commissioni da qui alla cosiddetta pausa estiva che peraltro quest'anno sarà molto più breve rispetto agli anni precedenti. Le Commissioni dovranno attenersi strettamente a quanto la conferenza dei capigruppo è programmato in modo di poter dare una piena applicazione a quanto previsto dallo Statuto e in particolare del nuovo regolamento. Certamente abbiamo la consapevolezza che avremo all'attenzione e anche tematiche importanti come quello della riduzione del numero dei consiglieri regionali, quindi con una modifica del nostro Statuto, i costi della politica sul quali vogliamo ancora fare uno sforzo, anche se molto abbiamo già fatto, e anche un tema che alleggia ma che è presente che è quello della nuova legge sulla caccia.